Musica 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 Ragazzi e umani cercatevi su Youtube sul canale Spodio Poso e Envira Spodio Poso e Envira, il canale è tu, cercatevi in video Facciamola, questa doppia vista, prende un altro ragazzo Spodio, la facciamo questa doppia vista, l'hai capito dopo ogni giorno? Dovete prendere un compagno e metterlo in spodio così mangiatevi insieme Facciamo una doppia vista, capito? Lo insegniamo? Vabbè dai, prendilo! Meglio! I bambini prendono la ragazza, guarda, dai tu di dentro, prendila E che stai in spade, non stai in spade insieme Fuori dai, dai, ok, 1, 2, 3, 3 Siamo partiti, stiamo facendo una doppia vista Mi sembrava, dai, guarda, tranquillamente Siamo partiti, stiamo facendo una doppia vista, mette un po' delle donne in spade e anche con le persone di leggerlo Andiamo? Vi faccio più oppure Siamo partiti con la doppia vista Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.